Buongiorno a tutti, buongiorno giovedì 9 novembre 7.07 ancora qui su Christian Radio con un nuovo appuntamento con Good Morning Milano, buongiorno Milano, buongiorno come state? Ragazzi, buongiorno, buongiorno a tutti, è un sospiro di riflessione, no perché non sapevo come... Riflettevi? Riflettevo sul fatto che è giovedì e il giovedì è un po' il sabato del villaggio della settimana, eh sì, lo dicevamo sempre anche in una fortunata trasmissione in onda l'anno scorso su Christian Radio che il giovedì è il sabato del villaggio perché alla fine sei lì e dici vabbè, se devi uscire la sera magari dici vabbè dai giovedì tanto poi domani è venerdì, il giovedì è il new Saturday, ma insomma no, no, quasi, però magari ti concedi qualcosina in più, ecco, concedetevelo anche voi. Abbiamo scollinato, quello sì, abbiamo scollinato, quello sì. Concedetevelo anche voi, scriveteci al 331 78 535 555, buongiorno, foto, quello che volete, siamo qua. Buongiorno. Ah, non era buongiorno a me, no, buongiorno generale. Siamo qui, siamo qui, siamo qui fino alle 9, siamo qui per raccontarvi un po' Milano, per raccontarvi tutto quello che succede nella nostra città, siamo qui leggendo i giornali, Emas Dieri sta già facendo la rassegna stampa che poi a breve vi proporremo, quindi potete condividere con noi appunto, grazie al numero di Whatsapp 331 78 535 555, tutto quello che state facendo o che avete intenzione di fare, noi in cambio un po' di musica, me la diamo. Takagi, Ketra, Shiva, Anagorler, Everyday. Questi sono i 15... Joliet. Joliet, ah, Joliet, scusa, ho letto male. Ho letto fino a là, comincio a non vederci neanch'io. I giovani, i giovani se la prenderanno, i giovani adesso manderanno molte... Cioè se la prendono con me o con chi ha fatto questa canzone? Voglio capire. Ah, signore, non mi faccia parlare, non mi faccia parlare, scusa, ti ho interrotto mentre la vieni in coordinata. 331 78 535 555, però le stavo dando perché pensavo che i fan di Joliet, che poi magari non so nemmeno io se lo dico giusto, scrivessero per insultare i due speaker di Good Morning Milano, ma, vabbè, diteci voi come si scrive, come fateci la trascrizione fonetica su Whatsapp... Sì, poi sei capace di leggere la tua trascrizione fonetica, io no, infatti, come quelle su Wikipedia, sai che c'è tra parentesi, la trascrizione fonetica non so... Alcune ti viene normale, senza saperlo ti viene normale da leggere, però come c'è scritto lì, un altro è un po' più complicato. Io ho uscito dalla statale, ho rimosso, cioè ho uscito da quell'esame lì, ho rimosso... Ma hai fatto l'esame anche? Ho fatto l'esame di linguistica, ho uscito dall'esame, non ho idea di come si leggono tutte quelle robe lì, stracomplicato è da fare. Bene, 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 saranno contenti i tuoi professori? Intanto sto facendo tutt'altro. Ah, ok, è vero, è vero, è vero, è vero. Quindi non arrecco danno a nessuno. Beh, no, a Joliet forse l'abbiamo arrecato a questo punto. Posso permettermi di dire che secondo me Joliet non sa che cosa è la trascrizione fonetica? Ma non so, no, quanto classismo, quanta piccola borghesia che si annida in quel della Bovisa. Va bene, va bene, allora... Non è tutta la Bovisa, è solo la casa di Masieri. Sto la Bovisa, no. Eh no, lotta insieme a noi tutta la Bovisa sempre. So che ci ascoltano dalla Bovisa. Più o meno, più o meno adesso, sicuramente in passato di più. Iniziamo con la segna stampa, allora, è giovedì e quindi cosa succede domani 10 novembre? Sciopero dei mezzi, sciopero dei mezzi proclamato dal sindacato Alcobas e sostanzialmente possibili disagi alle linee ATM, le fasce di garanzia sono sempre quelle prima delle 8 e 45 e... Tra le 15 e le 18, giusto? Non ho letto, ma immaginavo. Esattamente, esattamente. Quindi considerate un po' quella formuletta magica di ATM, considerate tempi di percorrenza maggiori, una roba del genere. Sì, sì, sì. E un ruotamento di balle anche, non possiamo dirlo, si può dire? Sì, perché no? Ecco, infatti, vabbè. Perché no? Anche Sacrosante lo richieste, ma insomma, forse, forse, mettetevi d'accordo, fate uno sciopero, io continuo a dirlo, ho fatto anche più grosso, ho fatto anche senza... posso dire, ma ho fatto anche senza avvisare, cioè, so che è illegale, però vabbè, a questo punto, cioè, non è che... Fa così, fa una barzelletta, sì, ma cioè, è diventata... Sto venerdì fa già... cioè, non è diventata l'abitudine del venerdì. Allora, siccome si legge in giro, appunto, che contestualizziamo, si legge in giro che anche il venerdì successivo e quello dopo ci saranno degli scioperi, però non si capisce bene se saranno coinvolti anche, se sarà coinvolto anche il trasporto pubblico o meno. Fatto sta che sicuramente, uno non aiuta la causa ambientale che... No, no, no. Ma neanche la causa di ATM aiuta, cioè, di ATM, dei lavoratori di ATM, cioè, non capisco... Io non capisco come facciano i sindacati a non capire che non è più possibile percorrere questa strada, cioè, non vedo quale sia... ma poi, su questo punto, che danno arriccano all'azienda, cioè, lo sciopero non nasceva per arriccare il danno, che... niente, tanto l'abbonamento l'hai pagato. Ma a proposito di mobilità, adesso ci colleghiamo con la redazione di Luce Verde, che ci dà le info sul traffico in tempo reale. E questo è The Weeknd, invece. K-pop, sai che il K-pop è un genere musicale, no? Sì. Che spopola. Sì. Lo sai, tu che sei giovane. Tu sei giovane, non sai queste cose? È il momento del K-pop. Ok, che è il Korean Pop, no? Ok. Cosa fai per fare... Ti fai una canzone che si intitola K-pop, così è geniale, cioè, vedi, come... Così dice, ah, ho fatto... Il K-pop fa un successo... È la mia canzone. Invece no. Caro The Weeknd, facile. D'altronde anche le storie tese fecero rock and roll. Vedi? Perché dicevano, eh, rock and roll è famoso. No, non è la vostra canzone. Eh, infatti, 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 vabbè. Comunque. Continuiamo con la rassegna stampa, perché ieri mattina... Due cose che sono successe ieri mattina. Probabilmente l'avete letto, assegrate, perdita di liquido estremamente tossico da parte di una cisterna. 25 persone sono finite in ospedale per aver inalato i vapori, leggo il Corriere della Sera Milano. L'incidente allo scalo ferroviario, il liquido forse sversato a causa di una chiusura difettosa della cisterna. Sono subito accorsi i vigili del fuoco, appunto, chiamati urgentemente per contenere, appunto, la fuoriuscita di questa sostanza estremamente tossica dalla cisterna. Insomma, adesso è tutto a posto. Adesso è tutto a posto. Dovrebbe essere. Non si è tornata nella normalità. E ieri mattina, blitz degli manifestanti del, chiamiamolo comitato Cambiare Rotta, di Cambiare Rotta, nel corso di un meeting europeo nella sala conferenza, nell'aula magna dell'Università Statale di Milano. Ok, cosa chiedono? Sostanzialmente denunciano le stragi in Palestina. Finché dicono, finché le istituzioni non prenderanno, ah, non intendono andarsene, finché le istituzioni non prenderanno una posizione netta sul genocidio del popolo palestinese e rilanciano un boicottaggio accademico contro Israele. Il boicottaggio accademico cos'è? Immagino sia perché all'interno di questo meeting forse c'era anche l'Università di Israele, ma non ne ho la sicurezza. Vabbè, quindi blitz degli studenti appunto di Cambiare Rotta, ieri mattina alla Statale di Milano. Tornando un attimo invece sul tema mobilità, prima ho letto di sfuggita, adesso non l'ho nemmeno sotto. Beh, non è male, prima l'elettro di sfuggita, adesso non l'hai nemmeno sotto. No, perché era un listone, però aggiungo all'ottima rituazione di luce verde che se in serata dovete percorrere la A4, tenete a mente che ci sono delle chiusure per dei lavori, ai vari svincoli, sapete che li fanno di notte, che una volta chiudono l'una, una volta chiudono l'altra, per evitare A4. A4. Ok, ok, va bene, va bene, quindi la Torino-Venezia. Luce verde c'ha anche quelle indicazioni, quindi se volete andate sul sito di luce verde potete trovare tutte le informazioni che vi possono servire per appunto capire meglio come muoversi sulle autostrade questa notte, questa sera anzi appunto. Questa sera è, nelle sere successive. Ok, c'è qualcos'altro? Possiamo fare il momento almanacco? Beh, il momento almanacco. Il momento almanacco nasce oggi Biagiantonacci. Ah, cantami la canzone di Biagiantonacci. Eh, se io... Io non lo sapevo, posso cantarne una, invece è bravo, bravo. Non entra nel mio conoscente, è simpatico, mi devi essere un ragazzo simpatico. Beh, un ragazzo ormai, oltre a trasformarsi in sting, Se mettete di fianco una foto di Biagiantonacci di sting, sono la stessa persona. È vero, è vero, è vero, un po' sì, è vero, è vero, è vero. Andiamo con la musica invece, non è Biagio, ma è Max, ed è Max Gazzè dal 2021 con Il Farmacista. E noi ci sentiamo fra poco. 50.000, Nina Zilli con... Eh, Giuliano Palma. No, no, proprio, sì, sì, con Giuliano Palma. No, avete detto giusto, per favore, perché ti vengono i dubbi per una volta che si accende il microfono? Non voglio fare l'azione come quella di prima su Giuliano Palma. Nina Zilli insieme a Giuliano Palma, 2009, uno dei primi grandi successi di Nina Zilli. Ci stavamo chiedendo, magari qualcuno lo sa, sul discorso che poi, secondo noi, si è stata poi portata a Sanremo nella serata delle cover. No, 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 no. No, ok, no, ci avevamo un giusto in... Io ero convinto. Vabbè, l'avrà cantata in qualche trasmissione, vai, non c'avevo queste immagini in testa. Infatti ho l'immagine in testa di Nina Zilli, agli albori. Sì, sì, sì. Con Giuliano Palma sul palco di Sanremo a cantare i 50.000. Non era Sanremo, magari, però era Domenica Inn. Può essere. Anche perché comunque Giuliano Palma negli ospiti della serata delle cover c'è sempre. C'è sempre. C'è sempre, ogni anno. È vero, è vero, è vero. Lui e Roi Paci ci sono sempre. Sai che stavo pensando proprio a lui? Ti stavo dicendo, e poi quell'altro che suona la tromba, tac, Roi Paci, infatti, lui. Sì, è vero, ci sono quasi sempre loro nella serata delle cover. La serata delle cover è forse la serata più bella del festival. Sì, sì. Inventata da Corlo Conti? Non lo sai che non lo so. Mi sa che non è quella lì, eh. Adesso poi andiamo a controllare questa cosa. Mi stai cadendo su Sanremo, strano, tu che sei un grande esperto di Sanremo. Non ricordo. Tu che sei il nostro Mollica. Quando è stata introdotta in Mollica. Mollica, sì. Sì, sì. Devo andare a recuperare la intervista di Fazio, Mollica. So che l'hai intervistato. Ah sì, hai letto? Scusa, ci spostiamo un attimo. Scusate, ci facciamo un attimo di fatti nostri. No, no, ci spostiamo un attimo da Milano. E che pensi? Da Milano, siamo in zona Lambrate comunque. Ok, a me quindi è Milano. Sì, però sulla televisione... Quanta borghesia nelle sue parole. Sulla televisione nazionale torna dopo nove anni alla trasmissione di Fabio Fazio che... Si possono avere tutti i pareri su di lui. Ma non è sulla TV nazionale. Ah no, scusa, sulla TV nazionale pensavo alla TV di Stato. No, ok, scusa, scusa. Si possono avere tutti i pareri che si vogliono su Fazio, però sostanzialmente gli ospiti li porta. Dopo nove anni torna Beppe Grillo in televisione. Chissà se si porta la confezione di Yomu. E glielo ammirano ogni volta ancora. Vabbè, sono curioso di vedere come questo... Sarà un'intervista prettamente politica. Dici? Io penso proprio di sì. Lo troveremo di un nuovo Grillo che... Boh, svolta pagina. Allora, sicuramente il Movimento si è un po' spostato. Vabbè, ma questo... Vabbè, queste sono robe... Si è spostato il Movimento o si è spostato lui, chissà. Ah beh, è anche quella una... Fazio si è spostato, quello siamo sicuri. Fazio si è spostato, di qualche canale si è spostato. 8 tasti più avanti è andata. Si è spostato, barra... Barra... Eh, dai. Comunque... Comunque. Noi invece non cambiamo canale. Noi non cambiamo canale. Sempre qui. Crystal Radio, tutti i giorni alle 7 e le 9, FM 96.2, poi... Da Plus, streaming, quindi app e sito, e se ci volete vedere, ci potete vedere sul canale YouTube di Milano All News. Siamo in zona San Siro, due giorni fa. San Siro e lo stadio Meazza si è tenuta una partita sulla carta scoppiettante e effettivamente molto molto bella da vedere anche per uno che è non tifoso del Milan, ecco diciamo così. 2 a 1 giusto? 2 a 1 per il Milan e infatti sugli spalti grandi calciatori, grandi ex calciatori come Thierry Henry, Beckham e anche Noel Gallagher, uno dei fratelli Gallagher degli Oasis, tifoso del City sfegatato, ma dice San Siro è bellissimo, non c'era mai stato un luogo straordinario. E gli ho detto, vabbè San Siro è sempre San Siro, così ha detto mentre usciva. Non riuscivo a schiacciare il pulsante perché battevo le mani. Mi piace tantissimo la fine di questa canzone di Pink. Molto coinvolgente. Sì, sì. All together! Senti come batto bene le mani. Complimenti! Senti come batto bene le mani. Sì, complimenti. Mi spiace citare se già mi spiace. Piccole soddisfazioni, potete dire. Mi fa piacere citare Elio e le storie tese perché poco tempo, qualche annetto fa, Faso, bassista di Elio e le storie tese, fece un tutorial su come battere le mani a tempo perché durante i concerti non c'è nessuno che batte le mani a tempo. Tra l'altro battere le mani a tempo su una canzone di Elio e le storie tese è difficilissimo. Non è facile infatti. Ma proprio grazie a Faso ho scoperto che in realtà noi battiamo le mani in una maniera diversa da come la battono, ad esempio, nel mondo anglosassone. Noi, adesso non so chi dito, non mi ricordo mai, noi le battiamo sul battere, mi sembra del rullante, invece loro sul levare, un po' reggaeton, un po' regga, no capito? E quindi c'è questa cosa strana per cui, soprattutto nella musica black, i black la battono sul levare e invece noi la battiamo sul battere. Pensa a te. Ma sempre Faso, non me l'aveva spiegato Faso, perché mi ha chiamato e detto, oh i raffi allora, mi battere le mani, è per quello che sono molto bravo a battere le mani perché Faso mi chiama e mi spiega come battere le mani. Comunque cercatelo su YouTube, c'è. Sì, sì, tra l'altro era stato anche riportato una varie testate. Sì, sì, c'è, cercate, credo, battere le mani, Elio, Faso e lo trovate, lo trovate. Allora, riprendiamo la segna stampa, perché in Lombardia, Corriere della Sera Milano, mancano 10.000 infermieri. L'assessore... Ripedi il numero? 10.000 infermieri. Chi ci guiderà, chi ci curerà, dunque, si chiede il Corriere della Sera Milano, la soluzione potrebbe trovarsi oltre i confini italiani, perché l'assessore regionale alla sanità, Guido Bertolaso, annuncia accordi per far arrivare dall'estero i professionisti di cui i nostri ospedali hanno bisogno. Sostanzialmente Bertolaso dice che è un mestiere che da diverso tempo ha perso attrattività. Adesso, perché ha perso attrattività? È quello il tema. Te lo dico? Così ci dicevano, appunto, noi abbiamo avuto anche il sindacato, se non fosse il sindacato, l'ordine, non mi ricordo, scusate l'approssimatezza delle mie ricordi delle passate stagioni, ma ci dicevano che il primo agosto, soprattutto per i medici di base, è l'inizio della carriera in cui il medico di base, appena lavorato e che deve iniziare questo nuovo mestiere, guadagna praticamente nulla, o meglio, sulla carta, se guardate, è un buono stipendio, cioè ci metterei la firma anch'io per avere questo stipendio, ma il medico di base deve pagarsi tutto, perché il tuo studio non è che te lo dà l'ASL, ovviamente, nel senso, perché è una via di mezzo tra l'essere un medico privato e non lo essere, se tu hai tutti gli oneri del privato, ma poi devi essere invece a disposizione del pubblico, diciamo, detta male, no? e devo dire che è un tema molto, molto importante, soprattutto quando parallelamente c'è il mondo del privato, che invece paga abbastanza bene, ma soprattutto non ti chiede altro che vai a lavorare, fai il lavoro d'ufficio buono, ci salvate le vite, grazie anche a quello, ma comunque è, diciamo, concepito in maniera diversa. Infatti, ma il grande discorso è appunto sul calo d'attrattività, lo dimostra il costante calo di candidatura ai corsi di laurea di scienze infermieristiche, meno 8,6% quest'anno negli Atenei Lombardi, capisci che se si va giù di 8% in 8%, 8%, cioè è tantissimo, è tantissimo, è interessante, magari lo approfondiremo nelle prossime puntate, perché tanto cercheremo qualcuno, un interlocutore per capire meglio la questione. Pazza Musica, Marco Mengoni, Elodie. Marco Mengoni, Pazza Musica insieme a Delodie, alle 7.46 minuti, abbiamo ritrovato il pezzo di cui parlavamo poco fa, di Faso, che ci racconta in un tutorial che ha, pensa, quasi 500.000 visualizzazioni su YouTube, per una, diciamo, per una cazzata dai 5 minuti c'è qualcosa di veramente a me, ma insomma, era l'epoca che facevano Casa Iglio e le Storie Tese, facevano questi video da casa, e facciano così, no? E racconta appunto come si battono le mani. Massimo, possiamo, possiamo, il ritmo più evoluto che siamo in grado di produrre è quello dello stadio. Cro, 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 cro. Aboliamo il ritmo dello stadio. E cominciamo ad entrare invece nella bellezza del groove. Del groove. One, two, three, four. Danse in settembre. Sempre sul 2. Sul 2, capito? Sul 2. Avete dei dubbi? Guardate il batterista. Certo. Hai dei dubbi? Guarda il batterista, poi lo guardi e dici, e quindi adesso, cioè, Faso, forse ci sopravvalluti un attimo, un Faso, così, eh. Anche perché mi sa che devi guardare la gamba del batterista. Non lo capisco, infatti, si dopo lo spiega. Rispetto, ragazzi, 5 minuti e 39, cioè quindi non è neanche facile da spiegare come cosa, evidentemente, se anche solo Faso, che è uno che ne sa, ci mette 5 minuti e mezzo per spiegarci come battere le mani, capisci, tornando a bomba sul nostro intervento di prima, perché mi vanto di battere le mani? Per le mani a tempo. E' quello. Non lo so, io non lo so, batto sul 2, adesso boh, chiederò. C'è una canzone di Elio Storietese che si chiama Ritmo Sbilenco, uno degli ultimi dischi, passato un po' in sordina, in cui in un certo punto Paola Folli, corista di Elio Storietese, dice ad esempio, battere le mani in un ritmo tipo questo non è mica facile. Vedi? E sono lì così. Vedi, vedi, lo dice anche lui. Vabbè, ma senti, caro Miamasieri, li abbiamo nominati, possiamo non ascoltarli? No, non possiamo. E quindi, allora, ascoltiamo sai chi? Elio Storietese con Born to be Abramo. E fa? Come inizia? Elio. 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 E le Storietese, qui a Cristal Radio. Elio e le Storietese, Born to be Abramo. Era di rito, metterlo, cioè dopo questo tutorial in cui Faso ci ha insegnato a battere le mani, non potevamo che mettere Elio e le storie tese. Allora, dimmi un po' cosa abbiamo, qualcosa... Eh sì, perché siamo quasi vicini all'apertura del nuovo Shopping District di Cascina Merlata. Il Merlata Blum Milano, che aprirà il prossimo 15 novembre. Blum. Lasciamo pelle su Faso. Ragazzi, posso dire una cosa? C'è della bisogno? No, posso dire una cosa? Per chi, magari tu non lo sai, ma il Blum, era il Blum di Mezzago. Era il grande locale in cui si andavano ad ascoltare i Nirvana. I Nirvana hanno suonato al Blum di Mezzago, quando non erano nessuno. Non lo sapevo. Credo, forse, anche qualcun altro della scena metallica, hanno suonato... Blum di? Blum di Mezzago. Mezzago. Era famosissimo. Poi ha chiuso negli anni scorsi e adesso è diventato il nome di un centro commerciale. Adesso il nome di un centro commerciale. So che chi ci sta ascoltando da casa in questo momento una lacrima gli sta scendendo lungo il viso. Nemmeno tanto distante da Rese, che è la prima cosa che ognuno pensa quando vede il rendering e legge... Un'uscita di... No, no, una firma di autostrada, credo. Vabbè, sostanzialmente il prossimo 15 novembre aprirà Merlata Blum Milano, indotto occupazionale di circa 2000 persone, tra collaboratori diretti e indiretti, che vuol dire che comunque, chiaramente, un progetto del genere implica nuovi posti di lavoro, eccetera. Si stanno ancora cercando diverse figure. Ah, ecco, c'è scritto questa cosa sul giornale, perché allora ti dico una cosa, so di queste cose, so di notizie che arrivano dall'insider, che dicono che è un grosso problema quello dell'occupazione in questi centri commerciali, perché non si stanno trovando... Se ha 16 giorni dall'apertura, mancano ancora tutte queste figure... Fate un salto su Milano Today, una volta lo dico anch'io, perché c'è la lista di tutto, fammi vedere... Adetti alle vendite, mille adetti alle vendite, cinema... Io non sapevo che ci fosse anche il cinema. Ah, vedi? Anche il cinema, mancava da resa il cinema. Ecco, finalmente c'è un cinema un po' vicino a casa, però... Tre pagine di roba, tre pagine di lista di gente che serve ancora per aprire. Fa meno di dieci giorni... Sei giorni. Sei giorni, fa sei giorni, un centro commerciale di queste dimensioni. Il tema è difficilissimo qua, perché non è solo gente che non ci voglia lavorare, ma diciamoci la verità, non è quello. È tutto un tema molto, molto più grande che non possiamo risolvere però né io né te, caro Mio Maseri. Andiamo in pausa. Ok, andiamo in pausa, ci sentiamo dopo, sempre qui su Cristian Radio, sempre qui a Good Morning Milano e anche, ricordatevi appunto, Milano News, potete rivedere, ascoltarci, vederci in diretta, scriverci anche al 331-7853-555. E adesso Tiziano Ferro, dal 2019. Torniamo indietro un po' così a scartabellare nei suoi dischi del passato. Tiziano Ferro, amici, per l'errore. A dopo, a fra poco, ciao ciao. Ben ritornati, ben ritrovati. 8 e 0, anzi, 8 e 10 in questo momento. Ho aspettato che passasse i cinque secondi che ci tirano dell'8 e 10. 8 e 10 qui su Cristian Radio, sempre con Good Morning Milano. Quest'oggi gli ospiti ci sono raggiunto un po' prima e abbiamo deciso di tirarli dentro e tenerli in trasmissione con noi fino alla fine, giusto Lorenzo? Facciamo un po' così, cambiamo un po' il programma. Cambiamo un po', ma sì, ogni tanto dai. Anzi, vi commenterete con noi le notizie di Milano, va bene? Fantastico. Buongiorno Evamos, buongiorno Davide Micheletti. Buongiorno. Buongiorno, allora Evamos, abitué di questi studi di Milano News, di Cristian Radio, a presentarci una nuova mostra, appunto, che inizierà sabato. Sì, 11 novembre. 11 novembre, Aquars, volume 3. Perfetto. Con te, Davide Micheletti di Enoteca Schuma Radical Wine, che collaborerà appunto alla realizzazione di un ottimo vernisage, giusto? Vinessage, non si vende a dire in questo caso, no? Buongiorno Davide. Buongiorno, buongiorno. Noi saremo partner, saremo lì presenti, insomma, in sostegno a Eva, alla mostra, a Aquars 3, appunto. Tutta la nostra, diciamo, selezione per quanto riguarda l'Enoteca parla di vini naturali, quindi il tema ambientalista dell'acqua per noi è molto importante. È interessante, vini naturali, che non diceva, il vino è naturale, il vino è... E invece no, ahimè, non è più così, giusto? Purtroppo ci sono tante cose. Non è più solo così. Non è più solo così, purtroppo questo aggettivo che è stato cognato nel tempo, che noi di Schuma abbiamo poi definito radicale, abbiamo cambiato un po' l'impostazione della parola naturale, viene dal fatto che per quanto riguarda il vino ha tante, come dire, sfaccettature diverse, si possono usare degli ingredienti legali, enologici, per cui il vino non è più naturale. Invece voi garantite che quelli che selezionate voi sono... Dov'è l'Enoteca Schuma? Siamo in Piazza Firenze al 4, a Milano. Ma ho capito che qual è, adesso... Tu che sei della zona, hai capito? No, non ho capito. No, perché lui, Bovisa... No, 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 Bassico moltissimo Piazza Firenze. Quanta borghesia ormai in Bovisa. Questo è il tema della giornata, eh? Sono spesso in Piazza Firenze. chiedere l'emosina cosa stai facendo comunque Schuma questo nome è un acronimo è anche un acronimo ma soprattutto in dialetto milanese si pronuncia Schuma e tutte le volte che nella vecchia Milano si stappavano una voglia di vino si diceva Schuma letteralmente sarebbe tradotto Schuma ma è un modo conviviale il vino è qua, è per noi, è vivo e godiamo, ne facciamo festa il significato è quello ed è anche l'acronimo di musica perché il mio socio che è con me in Enoteca è stato per tanti anni cover band e batterista quindi abbiamo unito un po' le due passioni cover band è le tue grandi passioni perché mi tiri sempre in ballo per cavolate perché sennò ti metto fuori allo studio e cosa ti tengo qua a fare Eva, terza edizione di Aquars cosa ci sarà di nuovo in questa terza edizione e cosa invece ci portiamo dietro dalle vecchie edizioni, cioè la tradizione di Aquars allora ci saranno sicuramente i nomi nuovi di artisti emergenti artisti internazionali abbiamo un po' di artisti americani questa volta quindi ci fa molto piacere per me che sono appena tornata da New York esattamente ieri com'è andata? molto bene e sei attratto a fare la maratona? non tu chi racconta? tra l'altro dai sono veramente molto fiera di Marco ha fatto meno di quattro ore quindi tre ore e cinquantanove però, 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 niente vale meno di quattro ore insomma no, è un buon risultato sicuramente per lui che ha la sua prima maratona una bella cosa prima maratona? beh, cavolo prima maratona prima maratona a New York complimenti allora Marco complimenti davvero wow, wow, wow prima volta a New York anche tu? eh? era la prima volta di New York anche tu? sì, sì, sì quanti musei ti sei vista? due ah, ok e hai preso spunto? sì, sì, sì diciamo la cosa che unisce tutti questi artisti il tema della mostra che è l'acqua diciamo un tema molto attuale e importante ritengo che sia una cosa molto importante la salvaguardia delle risorse idriche e quindi tutte le opere degli artisti che esporranno alla quarsa sono incitrate su questo argomento ecco Davide mi raccomando niente battute sull'acqua quindi sai che da solito l'acqua fa ruggine queste cose qua che voi altri so che sembra strano dirlo ma l'80% di una bottiglia di vino comunque del vino è acqua ah ecco fondamentale fondamentale anche per il buon vino eh sì lo dirò a mio ronno la prossima volta che come al solito a tutti i prati no, acqua fa ruggine sai che sai che me l'ha detto Micheletti delle notte cascuma quindi mica lo sto dicendo io facciamo una bella cosa mandiamo un po' di musica poi torniamo sempre qui a raccontare appunto di Acquars 3 ci dice appunto anche gli altri artisti che saranno e poi tutte le coordinate per sapere dove sabato dobbiamo andare anche per assaggiare i buoni vini di Micheletti e della sua e notte cascuma radical wine eh fa così non me l'aspettavo no no sì ogni volta ci rimango male ma poi me lo ricordo che è così quindi quelli che applausi quelli che applausi non c'è più quelli che mettono i drop in mezzo alle canzoni che sembra che ha saltato tutto invece semplicemente poi riparte con un battito di mani un battito di mani no The Blessed Madonna andiamo avanti 6 8 e 18 minuti con noi in studio Eva Amos e Davide Micheletti dell'Enotteca Schuma radical wine ti piace perché sono radicali quindi niente ti piace va bene da niente sì sì infatti illazioni sulle mie appartenenze politiche sì sì il tuo manifesto ormai Polidio che sta parlando avanti in questo utilizzo privato oppure sempre 24 anni ah giusto 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 Eva allora dicevamo tanti artisti artisti che arrivano anche da lontano dai Stati Uniti poi chi altro chi altro troveremo e cosa troveremo allora oltre gli artisti oltre le opere e gli artisti che saranno presenti molti artisti verranno tra l'altro a Vernissage quindi questa cosa mi fa molto piacere ci saranno inoltre due associazioni un'associazione tu conosci molto bene che sono Angeli di Navigli Angeli del Bello Simone Lunghi detto anche Angelo di Navigli perché è una ragazza molto di gamba che pulisce i Navigli e lui tira fuori le biciclette non solo ma l'oggetto più comune che trova nei acquidi penso che abbia superato le 500 biciclette raccolte no 600 ecco infatti infatti siamo arrivati quasi a cifre elevatissime esatto e l'altra associazione invece che anche questa conosci si chiama Ambiente Arte Andrea Curcio che parlerà delle problematiche legate con l'acqua eccetera e il territorio tutto questo quando e dove? allora il verniciaso della mostra si terrà l'11 novembre sabato questo sabato quindi abbiamo fatto apposta nel weekend quando la gente non lavora è libera è rilassata e presso il museo d'arte e scienza in via Quintino Sella 4 a fianco a Castello Sforzesco si affaccia sul Castello Sforzesco praticamente un museo davvero da conoscere da scoprire noi avevamo già avuto modo in altre edizioni nei tempi antichi facevano parte del complesso del Castello Sforzesco e c'è anche il cera adesso hanno chiuso un passaggio segreto tra il castello e questo museo si vede l'imbocco si vede infatti l'imbocco adesso è stato ovviamente chiuso per motivi di sicurezza volevano passare e andare via potevano uscire dove adesso appunto c'è il oltre il fossato diciamo uscivano appunto dove c'è adesso il museo d'arte e scienza ricordiamo quindi sabato 11 dalle 5 alle 20 e 30 alle 20 e 30 appunto questo vernisage Davide ma come vi è venuta questa idea di aprire questa inoteca così ricercata poi non è che avete preso vabbè dai facciamo ubriacare un po' i milanesi e via cioè non era quello sì insomma erano tanti anni che avevamo in mente insomma di aprire un'attività io sono almeno 10 anni 12 anni quanto meno che lavoro nella ristorazione soprattutto con le enoteche e soprattutto nel mondo di questi vini naturali radicali da tanti anni conosciamo un sacco di oltre di amici ma proprio di vignaioli abbiamo fatto un'esperienza sul campo per quanto mi riguarda insomma ho fatto tutto dalla sala ho insegnato per 5-6 anni corsi da sommelier e poi insomma c'è stato tempo per ragionare su quale altra attività noi avessimo potuto intraprendere e lo sbocco più naturale era aprire un'attività insomma un enoteco un'attività commerciale per dare poi anche spazio a tutte le conoscenze e tutte le esperienze che abbiamo maturato in questi lunghi 10-12 anni insomma ho cominciato all'età di 20 anni durante il periodo universitario e da lì il vino non mi ha più abbandonato hai visto quel caso quando fa buon sangue il vino e io invece ho fatto il processo inverso con l'alberghiero hai visto? però ho usufruito di tanti tureno gastronomici messi a disposizione dall'istituto Carlo Porta che ringrazio diciamo che a San Colobano all'Ambro ti conoscono molto bene credo cioè fuori da tua foto lui non può entrare in certe no no si scherza si scherza mica tanto comunque gli artisti mi dicevi appunto arrivano un po' dappertutto posti più lontani cosa di Italia che mi piace sempre fare questa cosa qui diciamo il posto più lontano il posto più lontano sicuramente sono Stati Uniti ok abbiamo tre artisti dai Stati Uniti e mi dicevi scusa prima mi sono distratto un attimo quanti artisti avete che espongono 50 ok 50 artisti un bel numero un bel nome un bello tondo ma insomma che fa capire quanto materiale vedremo pittura soprattutto c'è anche altro allora ci sarà videoproiezione quindi si ma di un artista americana quindi ci saranno proprio anche video art si 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 poi ci sarà digital art e si maggior parte sono le opere pittoriche ok sempre sul tema appunto dell'acqua Lorenzo tu qualcosa che volevi abbiamo citato Simone Lunghi ah si vai citiamo il fatto che domani 10 novembre 2023 dalle 7.30 alle 8.30 nuova iniziativa di proteggimi appunto quell'iniziativa che porterà i ciclisti a disporsi in in fila indiana diciamo a protezione della ciclabile di via le monza per chiedere maggiore sicurezza sulle strade milanese ecco sempre in via le monza sempre in via le monza ce lo stava raccontando appunto nei giorni scorsi il buon lunghi appunto che ricordiamo appunto questa richiesta da parte di molti vuol dire di avere una maggiore sicurezza sulle strade e appunto proteggimi crea questa sorta di si parla di ciclabile umana ci si dispone in fila indiana appunto a protezione della ciclabile per chiedere maggiore sicurezza poi la ciclabile di via le monza ultimamente è stata anche bersagliata sui social da video in cui sostanzialmente si mostra la realtà effettiva ossia che viene usata come doppia fila come doppia fila e quindi è complicata benissimo allora noi adesso andiamo con un po' di musica ci fermiamo per una piccola pausa anche per due consigli per gli acquisti e poi torniamo sempre qui con i nostri ospiti Evamos e Davide Micheletti a fra poco e adesso Elodie con affari spenti questa è quella che mi piace tanto a me quella che è tutta più o meno adesso anzi la fa meglio lei e anzi come si dice in questi casi che fa più o meno così Rauv Alejandro Baby Hello insieme a Bizarrap Bizarrap conosci? no ma ci sono ah c'è una vocale ok si si no pensavo fossero un po' di battitura inizialmente invece no no è Bizarrap Bizarrap con noi con noi sempre qui i nostri ospiti Evamos Davide Micheletti per presentare appunto Aquars 3 dicevamo appunto sabato il Vermissage giusto? 11 novembre sì alle 5 al Museo d'Arte e Scienza Museo d'Arte e Scienza tanti appuntamenti però durante il Vermissage tra cui? tra cui c'è iniziamo la serata con la presentazione del libro di Emanuele Bragozzi alle 5 alle 5 e mezzo scusami quindi lui porterà il suo libro e racconterà com'è scritto molto interessante l'ho letto quindi consiglio a tutti gli amanti dei libri della scrittura a venire ad ascoltare Emanuele che racconterà in prima persona quello che ha scritto tu l'hai intervistato se non sbaglio Emanuele Antonio Bragozzi si pensate che colleghi nella nostra vita io e lui a un certo punto si una storia pazzesca una storia di un bambino cresciuto nei boschi del Cile pensa ha vissuto per 3 anni in un bosco un piccolo una storia molti lo chiamano il Mogli Cileno una storia un po' bellissima che poi racconta bene anche nel suo primo libro appunto Il bambino invisibile adesso è uscito un altro che si chiama Per sempre nella sua continua ricerca della bellezza questo lui dice sempre che è stata la bellezza salvarlo perché quando si è ritrovato nel bosco da solo per 3 anni dall'età mi sembra di 5 anni agli 8 anni scusate e sta la bellezza della natura a salvarlo giocava con animali è una storia incredibile è una storia veramente incredibile Manuela Antonio Bagonzi appunto la provate vedere qui di Bendetto sabato a che ora? alle 5 e mezzo alle 5 e mezzo potete venire alle 5 ed alle 5 c'è già la mostra si apre le porte il museo si apre le porte e invece alle ore 19 abbiamo la presentazione ufficiale con tanti ospiti tra cui ci sarà anche Davide e ci sarà anche la art consultante divulgatrice digitale Elisabetta Roncati che affronterà un po' diciamo la parte un po' critica dell'argomento della mostra e ci sarà anche il suo testo nel catalogo tra l'altro e poi come abbiamo detto ci saranno due associazioni culturali di Simone Lunghi e Angelo del Bello e Angelo dei Navigli e poi Andrea Curcio con l'associazione Ambiente Arte Acqua scusami è tutto legato all'arte no Ambiente Acquollus esatto e in più facciamo anche una una cerimonia di premiazione di sette artisti vincitori scelti dalla nostra giuria ah vedi 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 porterete alcuni vini tu dicevi per capire e conoscere meglio le vostre espressioni diciamo se dovessi però appunto pensare a un vino da collegare a un evento del genere a una mostra che appunto racconta per la terza volta appunto la terza edizione di Acquarse quale potrebbe essere? ma la scelta è molto ampia nel senso che il senso diciamo etico che ci sta dietro alla tematica ambientalista quindi dell'acqua riguarda un po' tutta la sfera del mondo del vino naturale certamente magari potrei scegliere qualcosa che è molto più vicino magari una zona marina appunto per quanto riguarda gli oceani il mare stesso quindi magari un vino del sud o comunque un vino che possa avvicinarsi alla costa ecco quindi un vino magari anche bianco molto marino molto salino ecco nella sua accezione questo sicuramente che cosa dobbiamo visto che parlate di vini naturali adesso so che tu hai detto giustamente ho studiato quindi insomma non sarà facile dirlo in poche parole e soprattutto per non riconoscere ma da cosa si può capire quando un vino magari è più o meno naturale e soprattutto che cosa comporta questa cosa del naturale o meno ci sono spesi fior fior di critici di enologi di agricoltori e anche molti dibattiti ci provo a riassumerlo in poche parole tra l'altro avremo anche una degustazione mercoledì prossimo il 15 su questa tematica diciamo che la parte l'aspetto del vino naturale dunque radicale riguarda soprattutto la vinificazione se noi parliamo di agricoltura e parliamo quindi di vigna non solo mi viene in mente anche lì la tematica dell'acqua serve per insomma per far star bere una pianta la pianta devono bere se parliamo di vigna la parte dell'agricoltura biologica è non usare pesticidi diserbanti quando si parla di vino naturale una vigna deve essere in biologico e la vinificazione non deve comprendere determinate lavorazioni o aggiunte di prodotti enologici come lieviti quindi fermentazioni spontanee non devono essere filtrati o chiarificati i vini e sicuramente devono avere una bassa presenza di solfiti quegli allergeni quelle cose che ci fanno venire tanto il mal di testa dopo una serata che magari abbiamo anche un po' esagerato quindi non è una leggenda cioè proprio quello che in realtà ti fa stare male diciamo quando un po' appunto bevi il vino naturale non ti fa stare male se tu briacchi se devi una botta immagino che insomma all'eccesso tutto diciamo stroppia però è sicuramente un vino molto più sano più leggero più digeribile e sicuramente il mal di testa non è assicurato ecco hai capito come invece per gli altri come invece per gli altri te qual è il tuo vino preferito allora io non sono per niente un esperto dico sempre che il vino buono lo fa la compagnia io dico questa roba qua un ottimo tavernello il buon vino lo fa la compagnia non farlo entrare non farlo se lo vedi passare tiragli la bottiglia vuota perché non sprechiamo del vino addietro tu dove in avanti passi con un caschetto quando passi da piazza Firenze te lo dico non essendo un esperto piuttosto che dire una cavolata dico appunto l'importante è che stai in compagnia il vino fa buon sangue il buon vino fa la compagnia ci sono più le mezze stagioni quando mi capita anche a me di andare in enoteca con robe del genere sto più a ascoltare anche la narrazione del vino è diversa da locale a locale chiaramente se vai in un enoteca aspetta scusami mi fa velocissimo non ci interessa no scherzo se vai in un enoteca c'è una narrazione molto diversa rispetto a un altro locale in cui magari ti prendi un bicchiere di vino e ne hanno due ieri sera appunto che sono uscito perché c'era a comprare mia mamma auguri con la mamma auguri grazie abbiamo cioè hanno preso il vino e hanno provosto questo vino che si chiama Verona mi sembra una cosa del genere che non è un Valpolicella ma ci si avvicina non ho capito bene che cosa volesse dire forse c'era di mezzo non so un paio di vie per cui non poteva entrare nella zona del Valpolicella non ho capito una lavorazione non lo conosco prometto la lavorazione non è completa come quella del Valpolicella quindi non può rientrare nelle richieste che il comitato Valpolicella metterà non so c'è una zona azione insomma la DOCG prevede che possa essersi chiamato Amarone entro una certa diciamo area geografica probabilmente era fuori dall'altra parte dall'autostrada e non andava bene era quello andiamo con un po' di musica e allora beviamo un po' di vino lo dice anche Adele con I Drink Wine dal 2022 Adele I Drink Wine qui su Crystal Radio sempre a Good Money Milano poi torniamo con i nostri ospiti sempre qui sempre qui insieme no non parte parte di Simply Red che comunque hanno a che fare con il vino ve lo spiego dopo e l'avevo messo apposta Simply Red Stars poi ve lo spiego perché Simply Red hanno a che fare con il vino Simply Red con Stars non è stata messa a caso parlavamo di vino parlavamo di vino e tu sai che Mick Hacknell che ho dovuto leggere perché non so voce dei Simply Red ha avuto fino al 2015 2016 una tenuta in Sicilia in cui produceva del vino è usuale tra i cantanti lui è uno dei primi però sappiano questo è uno dei primi che infatti poi dopo l'hanno seguito Sting e molti altri questo è uno dei primi ma soprattutto sai come si chiamava la tenuta da cui uscivano i vini di Mick Hacknell dimmelo il cantante inequivocabile inequivocabile la cosa bella è che se tu cerchi su Google e scrivi rosso Simply Red a volte viene fuori il cantante a volte viene fuori il vino cioè la gente non sa se stiamo parlando del cantante no talmente per Simply Red che lui aveva già detto che non era semplicemente perché lui fosse rosso di capelli ma che si faceva anche al Red Wine cioè al vino rosso anche Neri per caso ah no pensavo anche gli Ubi Forti anche gli Ubi Forti cantavano Red Red Wine ad esempio quindi insomma il vino è sempre stato cantato assaggiato e cantato forse perché il buon vino è la buona compagnia va va quel paese va Masieri c'è che Sara si vergogna quando lo dice fa bene fa bene Sara sappiamo essere appunto la badante che si porta in giro Masieri cioè che lei porta in giro Masieri a far venire le ore d'aria e insomma si vergogna con non so che cosa perché si condesci con queste uscite va bene comunque comunque ricordiamo bene Eva allora tutte le coordinate per venirvi a conoscere meglio appunto l'11 di novembre e poi fino a quando dura e come si fanno anche nel cioè se ho l'11 un impegno non posso come posso fare per venire allora appunto l'11 novembre abbiamo la serata di opening dalle 5 alle 20 e 30 presso il museo d'arte e scienza in via Quintinosella 4 a due passi del castello Sforzesco quindi siamo proprio in centro però la mostra non finisce naturalmente l'11 sera dura fino al 17 novembre quindi se qualcuno non riesce a venire alla serata di Vernissage anche per assaggiare un ottimo bicchiere di vino della Neoteca Shuma può venire nei giorni successivi tranne domenica che è il 12 naturalmente domenica il museo è chiuso si riposa il settimo giorno e va a mostri prosopi dicono le sacre scritture dicono così il 12 novembre è il giorno libero quindi dal 13 al 17 si può venire tranquillamente al museo negli orari di apertura del museo basta dare sul sito del museo si trova tutto Davide facciamoci degli amici il vino secondo te più sopravvalutato che c'è lo devo dire lo dico secondo me potrebbe essere sicuramente un nome di una grande maison magari come un sassicaio o un tignanello secondo me sono grandi nomi e c'è molta curiosità potrebbe essere un vino grandemente sopravvalutato ma stutti sassicaia dice non diciamo i nomi purtroppo sassicaia è un monopole quindi c'è solo un'azienda non diciamo niente invece il vino diciamo più sconosciuto ma che secondo te bisognerebbe scoprire ce ne sono tanti vero in Italia abbiamo la fortuna di avere tanti vitigni e quindi tanti vini sconosciuti io sono molto affezionato diciamo al vigneto Italia perché non finisco mai di scoprire qualcosa di nuovo abbiamo tanta ricchezza culturale e questa varietà di vitigni mi permette sempre di scoprire qualcosa di nuovo secondo me ad oggi insomma uno degli ultimi così uno degli ultimi vini un po' più particolari un po' più poco scoperti penso alla Romagna con la sua uva centesimino di cui abbiamo anche un ottimo passivo centesimino centesimino è una straduta particolarissima io ero rimasto al millesimato centesimino non sapevo di se stesso è uno molto particolare poi insomma adesso stanno riscoprendo in Abruzzo la cococciola insomma ce ne sono tantissimi veramente tantissimi in Italia siamo pieni e ogni giorno si scopre qualcosa di nuovo e questo è buono però insomma magari anche i vitigni che si pensavano persi riescono invece a tornare e soprattutto con questi cambiamenti climatici i vecchi biotipi i vecchi cloni o i vecchi vitigni possono essere anche una risposta più resiliente ai cambiamenti ah vedi vedi quindi tornare appunto alle origini in realtà fa sì che quel vitigno si riesca ad adattare meglio ai cambiamenti piuttosto che quelli che abbiamo creato non so se è la parola giusta innestato non so bene come funzioni in futuro sostanzialmente generalmente si può andare bene non è in assoluto però va bene dai facciamo i vini californiani ce ne sono tanti bella risposta bella risposta adesso so che sono California Australia no giusto sì insomma ormai si fa vino anche in Asia anche in Nord Europa ormai c'è molto interesse sempre di più ormai si può coltivare vigna Australia Nuova Zelanda a sud di Londra insomma tanti posti dove prima non si poteva questo perché forse sì il cambiamento climatico forse perché delle tecniche diverse hanno permesso di fare questo diciamo poi qualità è altro discorso però si fa vigna Eva tu quando è che hai passato dalla tua passione per la vodka alla passione per i vini la tua origine russa com'è che no no in realtà non ero mai fan di super alcolici cioè sì assaggiata o in buona compagnia perché la buona vodka è la compagnia così si dice dalle parti di Mosca no giusto l'unica cosa che non ho mai capito perché cioè voi bevete la vodka come un caffè la vodka si fa così via si fa così bottiglia direttamente tutta giù capito no 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 lo shot si butta giù invece noi lo sorseggiamo una volta adesso ormai si va giù di shot veloci anche tu non so tu la vodka la bevi? no qualche volta mi è capitato se non è non è mi raccomando non c'entra niente buona compagnia per la vodka deve essere di piatto e soprattutto la si accompagna con i cetriolini giusto? esatto questa la sapevo questa la sapevo questa so che oppure con un pane nero con la ringa sopra verrai solo per i cetriolini della panela ringa la vodka la lascio da parte ma mi scofano tutta la ringa tutta me la bagno ci sta venendo fame sono grande amante delle ringhe sì sì e invece quanto ha influenzato il buon vino nel rimanere qui in Italia cara mia Eva sicuramente la cucina italiana il vino italiano sicuramente ha fatto un colpo per farmi venire qua perché prima naturalmente venivo qua per la vacanza sono venuta prima 3-4 volte poi in realtà dalla prima volta ho già iniziato a pensare come farmi come far rimanere qua sì sì l'obiettivo era quello l'obiettivo finale era quello penso che quando sono venuta per la prima volta qua per vacanza era agosto cioè 40 gradi che bel caldo bellissimo perché in San Piotrburgo in quel momento c'era pioggia e 17 gradi allora dicevamo prima l'ho detto adesso vediamo finalmente l'ho rimessa in scaletta perché volevo farvelo ascoltare di vino parla anche la bravissima Adele nella sua canzone I drink wine alle 8.53 qui su Cristal Radio scusa Adele abbiamo la sigla da mandare perché siamo in chiusura ma prima di chiudere ultima cosa da dire importantissima su un premio fondamentalmente che darete a un artista esatto allora praticamente di 50 artisti l'enoteca Shuma sceglierà un artista bravissimo secondo loro quindi risposta per tutto loro che vince un premio speciale ovvero la mostra personale presso l'enoteca Shuma una disposizione presso l'enoteca beh complimenti grazie siamo fieri complimenti prima di chiudere invece un'ultima notizia che arriva dal comitato Novasca dal comitato Novasca che sono stati ospiti un paio di giorni fa qua ai nostri microfoni perché ieri si è tenuto l'incontro con il direttore lavori di MM l'ingegner Franco Galli e sostanzialmente coloro che manifestavano hanno sostanzialmente ricevuto tra virgolette risposte ossia ci sono molti vuoti tra lente regolatore piano collaudi piano manutenzione si stanno parlando i vari ingranaggi vi invito a recuperare il video di Matilde Minella sulla pagina facebook comitato Bresso Novasca e noi lo salutiamo davvero adesso eh sì perché noi ci ritroviamo domani mattina come tutti i giorni da lunedì al venerdì dalle 7 alle 9 qui in diretta su Crystal Radio 96.2 FM streaming Duck Plus e App e App grazie Eva ci vediamo sabato l'11 novembre 17.30 presso il museo d'artiscienza via Sella 4 perfetto con Aquas volume 3 e noi invece domani mattina sempre qui alle 7 per raccontarvi Milano la città metropolitana e tutto quello che rende grande la nostra città buona giornata continuate dopo di noi senti questa sentila sentila anche questa dance to the music